Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTV Channel, io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Paperino Superstar, Paperino e Zio Paperone. Eccolo qui, Paperino Superstar, Paperino e Zio Paperone, appartenente alla collana Disney Hero, numero 113, il prezzo di 4,90 euro, 192 pagine, con praticamente 7 storie ristampate, ovviamente da Topolino. A dirvi la verità ragazzi, sono andato in edicola sperando di poter trovare in anticipo i grandi classici Disney numero 100, invece non li ho trovati, sono andato in edicola per trovare i classici Disney e non li ho trovati. Non ho trovato nemmeno il D-Lando Gold Boy, non ho trovato niente, quindi ho ripiegato su questa testata che acquisto ogni tanto, un cosiddetto vatte la pesca. E dato che Paperino quest'anno a giugno ovviamente festeggerà i suoi 90 anni dalla prima sua apparizione, ho detto vabbè dai, prendiamo questo. Questo è uscito ufficialmente il 10 aprile, nel momento in cui sto registrando siamo a domenica 14 aprile 2024, quindi è uscito da pochissimi giorni, ho appena finito di leggerlo. Vi dirò insomma cosa ne penso delle storie presenti. Ovviamente si tratta di una testata che esce mensilmente, io ho acquistato anche lo scorso numero di Paperino Superstar, il numero 112, cioè il Disney Hero 112, questo è il Disney Hero 113. E le storie sono praticamente ovviamente tutti di Paperi, ambientate a Paperopoli, ma con la coppia Paperino e Zio Paperone, qui dice appunto è lo zione più speciale che ci sia. Lo trovate nel deposito in cima alla collina Ammazza Motori, insomma è una collana ragazzi questa che va bene soprattutto per gli occasionali o per quelli come me insomma che vanno sempre alla ricerca di rileggere storie, più che altro di leggere, perché queste per me sono tutte inedite, di leggere storie visto che non hanno tutti i numeri di Topolino. Vediamo le storie presenti, vi dico subito che delle sette storie presenti, quelle che mi sono piaciute di più sono la prima, che è anche la più vecchia, perché è dell'89, e l'ultima che è molto, è corta, ma io lo sapete ho una predizione per le storie brevi. Allora si parte con la storia più vecchia che è Paperino e la festa acquatica di Topolino 1751, il 18 giugno 1989. Piccolo appunto per la copertina, che è una copertina disegnata da Ciro Cangelosi, una copertina molto classica, niente di che, però mi piace anche, diciamo, il fatto che ci siano Paperino e Zeva Perone con la stessa espressione vicini, è uno sfondo rosso con delle stelle, questa invece è la costina, niente di eccezionale qualcuno direbbe, però comunque Ciro Cangelosi ha fatto il suo, ha fatto il suo insomma, su questa copertina. Come detto, la prima storia, Paperino e la festa acquatica, che è appunto tratta da Topolino 1751, il 18 giugno 1989, testo di Fabio Michelini e disegni di Comic Up Studio. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo la storia più vecchia di questo numero, dove praticamente, come al solito, Paperino deve dimostrare ai nipotini, ma anche a Zeva Perone, che lui può fare qualcosa, può fare qualcosa di intelligente e di importante, al cospetto del suo nipote, più che altro, del suo cugino fortunatissimo, cioè Gastone, e praticamente lui avrà il problema, cioè Zevo Perone gli dice che deve andare ad Acapulco, devi sostituire un cameriere, devi stare una settimana lì, ma lui deve innaffiare le sue piante, quindi si inventa un modo per innaffiarle ai tempi. Poi ragazzi, il 1989, stiamo parlando di 35 anni fa, era abbastanza, cioè come dire, le righe autori automatici, la tecnologia non era ovviamente come oggi, quindi si inventa un, come dire, un modo per irrigare, quindi innaffiare le piante, usando anche del ghiaccio, così, come al solito, come spesso accade, Zevo Perone cercherà di rubare l'idea a lui, e ci sarà questa festa acquatica, Zevo Perone in un certo punto renderà la colina a Mazzamotori, lo renderà un orto, quindi cercherà di avere profitti, insomma, la storia è molto bella, ragazzi, ci sarà anche Archimede, una storia molto carina, devo dire, che comunque Fabio Michelini ha scritto delle buone storie su, in generale, di Paperino. Pag. 41, Paperino e Paperoga al centro della terra, Topolino 2567 dell'8 febbraio 2005, testo di Rudy Salvagnini e disegni di Silvio Camboni. Silvio Camboni, che sarà presente in due storie, ha disegnato due storie, cioè sono state selezionate due storie di questo Paperino Superstar con il Paperino e il Zevo Perone. Questa è una storia dove sono protagonisti i cugini, Paperino e Paperoga, che a me fanno impazzire, io li adoro quando sono in coppia. Anche questa storia, devo dire, che mi è piaciuta, quando ci sono loro due, di solito mi piacciono le storie. Pag. 67, Paperino, mille a diario straordinario, del Topolino 2647 dell'agosto 2006, 22 agosto 2006, testo di Carlo Panaro, che sarà presente anche in un'altra storia, e disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Vediamo nel 2006 com'era il tratto di Lorenzo Pastrovicchio, che è molto più presente ora, ovviamente, sul Topolino. Qui eravamo appunto nel 2006, il suo tratto comunque è abbastanza riconoscibile, ragazzi. Io dico sempre, il tratto più riconoscibile è sempre quello del maestro Giorgio Cavazzano, quando capita. Non è il caso di questa pubblicazione, non ci sono storie di senatore Cavazzano, ma devo dire che anche Pastrovicchio è un bravissimo disegnatore. Pag. 91, Paperino, Paperone e la palandrana catena, Topolino 2840, del 4 maggio 2010, Maria Muzzolini, Altesti, disegni di Andrea Ferraris. Faccio vedere qualche tavola disegnata da Andrea Ferraris e il suo tratto dei paperi, di come li disegna. Poi c'è Paperino, è l'inseguimento senza fine, Topolino 1843, la seconda storia più vecchia, insomma. Del 24 marzo 91, testo di Rudy Salmanini, disegni di Silvio Camboni. Anche questa storia, devo dire, che segue gli stilemi classici della storia in cui Paperino deve fare, in questo caso da autista, Zio Paperone. Ne combineranno di tutti i colori e renderanno il tutto molto simpatico. Poi c'è la penultima storia che è Paperino, la conquista planetaria, Topolino 2366, del 3 aprile 2001, testo di Carlo Panaro, disegni di Paolo Mottura. Qui abbiamo ovviamente i disegni di un altro maestro come Paolo Mottura. Qui qualche tavola ve la faccio anche vedere, ragazzi. Paolo Mottura è tra i disegnatori più bravi di sempre per quanto riguarda la Disney Italia, la Disney in generale, di Paperi e Topi. E poi, come detto, c'è la storia breve, ma bellissima, secondo me, che è Paperino il riposo sfiancante, che è quella più recente, se vogliamo dire così, anche se sono passati praticamente quasi 12 anni dalla sua uscita. E a Topolino 2953, del 3 luglio 2012, Paperino il riposo sfiancante, testo di Gabriele Panini e disegni di Maurizio Amendola. Questa è la classica storia in cui, praticamente, Paperino deve nascondere la sua identità segreta di Paperinic. Praticamente lui è a casa, sta dormendo, suonano la porta, i nipotini si svegliano e dicono eh, ma Paperino, lo zio Paperino dorme sempre. Poi in realtà ci sarà zio Paperone che andrà a trovare il nipote, li farà fare un viaggio e poi ci sarà l'identità segreta, appunto, Paperino che la notte vestirà i panni di Paperinic e poi il giorno dormirà. Il prossimo numero uscirà il 10 giugno, quindi è una testata, scusate, bimestrale, non mensile, ma non credo che lo prenderò, a meno che non esca nulla di nuovo in ericola e allora ripiegherò su questa collana cosiddetta Vatte la Fesca, che però offre sempre dei buoni spunti e delle belle storie. Paperino la festa acquatica e Paperino il riposo sfiancante, la prima e l'ultima delle sette storie, per me sono le migliori. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre, mi raccomando, continuate a seguirmi, sto facendo un po' meno video anche per impegni lavorativi, impegni miei, quindi sto comprando molti meno fumetti bonelli, non solo per colpa mia, ma anche per la distribuzione, che ragazzi, credetemi, qui in Puglia è un qualcosa di schifosamente vero, purtroppo, e quindi mi fa passare la voglia di acquistare fumetti, però terremo duro, noi lettori di ericola terremo duro finché potremo, poi quando le ericole moriranno definitivamente, e penso sia vicino purtroppo a quel momento, ripiegheremo su altro, ma per ora ci sono, ci siamo, e quindi sono contento che voi mi supportiate, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere se anche voi avete acquistato questo numero, di Paperino Superstar, Paperino e Zio Paperone, Disney Hero numero 113, io vi ringrazio come sempre, fate i bravi, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!